Ai nostri microfoni Lorenzo Polvani, nuovo difensore centrale dell'Arezzo, classe 94. Allora, intanto benvenuto. E poi, domanda scontata, cosa ti ha fatto scegliere questa piazza? Avevi anche richieste in altre categorie? No, ovviamente in primis la piazza, il nome Arezzo che è importante per sé, grande piazza, soprattutto per la sede di poi, non c'entra niente in questa categoria. Quindi, la prima cosa che è stata è questo. Poi, conoscevo già ovviamente il mister, il direttore, so come lavorano e mi sono sempre trovato benissimo con loro, so che si fa un bel calcio, quindi questo è stato un altro motivo molto importante. Cosa ne pensi di questa rosa? È stata allestita una squadra molto competitiva che parte con i favori del pronostico. Sì, penso sia stata costruita una buonissima squadra e, come è già successo in passato, ovviamente queste cose contro fino a un certo punto. Poi sta a noi, insomma, diventare squadra, essere squadra. Questo è l'importante. Le basi ce le abbiamo. Ci sono tutti i riflettori puntati sulla grande favorita, magari poi rischiano anche di farsi prendere un po'. La facile entusiasmi? Sì, certo, bisogna intanto mantenere sempre la calma, sicuramente non farsi prendere troppo d'acqua e stanza, che è giusto che ti spinga ma non ti deve sopraffare. Insomma, sappiamo che siamo qui per un motivo e dobbiamo portarlo in fondo. Ecco, per quello che riguarda i primi giorni di preparazione, immagino che il carico di lavoro sia pesante anche a causa del caldo. Eh sì, i primi giorni siamo partiti anche forte e il carico è abbastanza pesante, sì. Però se riusciamo a continuare su questa strada possiamo fare un bel lavoro. Sei pistogliese, sei nato e cresciuto con la maglia arancione. Conoscevi già la città? Di Arezzo, certo, sì, sì, sì. Tra l'altro mio padre è di origine aretine, ci sono tanti polvani qua e quindi sì, conoscevo. Ho già anche giocato contro diverse volte nello stadio. Allora, in bocca al lupo. Grazie, grazie.